Buongiorno ragazze, oggi siamo presso BB Cream Italia, venditore online di moltissimi maschi. Innanzitutto vi voglio inquadrare tutte le maschere e tutte le creme della Queen Elena. Come vedete alla nostra destra il Natural Special Scrub, poi quello all'olio d'oliva e poi sulla sinistra, correndo, quello all'albicocca, quello all'aloe vera e ovviamente quello all'avocado e al grapefruit. Ne hanno moltissimi, come vedete, tutti con packaging molto accattivanti. Lo stand ovviamente è pieno di ragazze, ma anche di donne di tutta l'età, che ovviamente riescono a reperire solo qui moltissimi marchi che purtroppo altrimenti non sarebbero reperibili. Vi faccio vedere ancora che cos'altro è disponibile qui presso lo stand. Innanzitutto le spazzole districanti coloratissime, ovviamente i Real Techniques, quindi tutta la linea di pennelli delle sorelle Chapman, al secolo dette sorelle Pixi Wu. Come vedete la linea è completa, mancano solo i nuovi che comunque ancora non sono arrivati in Italia. Come vedete stanno andando a ruba. Dopodiché continuiamo. Si appoggia qui anche al marchio Egyptian Magic, per cui con tutte le sue maschere, vedete. Di nuovo, come vi dicevo, la destata con le sue spazzole districanti e i suoi colori molto molto accattivanti. Ah, e dimenticavo di dirvi, ovviamente, il marchio che stanno andando per la maggiore, quindi Milani, praticamente difficilmente reperibile qui da noi, anzi quasi impossibile, con i suoi nuovi blush della forma, devo dire, simpaticissima, vedete, è praticamente stampata una rosa in cima. Gli ombretti Milani, anch'essi molto molto belli. E poi altro marchio nordamericano, la Giordana, che anche qui, altrimenti, sarebbe praticamente irreperibile, vedete. Devo dire, quindi, uno stand molto molto carino, con molti marchi giovani, e come vedete, ripeto, lo stand è pieno. Hanno anche la, vediamo se riesco a farvelo vedere, la Makeup Revolution, che sta andando moltissimo, come vedete, e le palette, le palette sono tutte qui. Come vedete, il pubblico sta apprezzando moltissimo, perché ci sono persone, come vi dicevo, di tutte le età. A presto, ragazze, spero questo video vi sia piaciuto.